Buongiorno ragazzi, adesso dovete stare qua perché voi ci stanno a vedere, ragazzi, 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 me l'hanno fatto qua, fermato, il campione dell'Olimpico di una strada rotta del 100, Dessal, oggi vi realizzerà il 152 di Pia, quindi state tutti molto, molto attenti, intanto mi è piaciuta per partita anche la prima storia, scelta il 15 dietro la mia spalla per i restiti ragazzi, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.